Benvenuti alla seconda parte di Regie Ororifiche e dove trovarle. Allora, la volta scorsa abbiamo fatto, come dire, un'introduzione, una panoramica di quello che è il rapporto fra il regista e lo spettacolo di cui deve fare la regia. Oggi andiamo un po' più nello specifico e vi racconto una serie di regie ororifiche che ho visto, qualcuno da spettatore e qualcuno invece in piedi dal podio. Ricordo per esempio una sonnambula una dozzina di anni fa, nella quale Amina, durante l'aria a non credi a mirarti, ha fondamentalmente un aborto. E quindi lei canta quest'aria bellissima mentre ha l'aborto e col sangue che scorre a fiumi. In tempi più recenti una traviata alla scala, che probabilmente ricorderete, dove Alfredo durante la sua area dei bollenti spiriti è lì che cucina le tagliatelle, taglia le zucchine, una delle cose più brutte che io abbia visto in vita mia. E qui potremmo toccare la questione estetica di che cosa è brutto e di cosa è bello. Uno dei momenti della storia e della lirica che faceva più appugni con quello che succedeva sulla partitura. Nel corso dello sesso allestimento di traviata, Violetta muore abbracciando una scatola di cioccolatini, che mi sembra anche simbolico. Oppure una Carmen a Napoli, nella quale i cantanti, mentre cantano alle aree più belle, sono circondati da una serie di figuranti con in mano dei tubi fluorescenti, il cui unico scopo sembra quello di dar fastidio ai cantanti. E quindi tutta la poesia, tutto il pathos, tutto l'eros di Carmen vanno decisamente a farsi benedire. Poi ricordo una norma nella quale la protagonista, invece che essere una sacerdotessa dei druidi, è fondamentalmente una palestinese e Poglione diventa un israeliano. Il problema di queste regie non è tanto l'ambientazione, lo spostare l'ambientazione. Cioè, nel senso, a me non darebbe fastidio che Poglione, invece di una spada, avesse in mano un Kalashnikov. La cosa di per sé non mi dà fastidio. Mi dà fastidio se poi c'è un certo momento dell'opera in cui Poglione parla della spada che è in mano, ad esempio. E tanto per parlare proprio di questo allestimento, mi viene da pensare in mezzo al deserto della Paestina dove trovano il vischio. Così, non è una sciocchezza, mi rendo conto che forse non è la cosa principale. Però, insomma, io mi pongo il problema. E per la stessa ragione che ho detto prima, tu non puoi rappresentarmi Poglione vestito da israeliano e poi lui diventa il fatal romano. A questo proposito, ricordo invece una regia di un Elisir d'Amore diretto da me, che il regista aveva pensato di ambientare, invece che nella fattoria di Adina, come previsto da quello sconsiderato di Donizetti, una specie di laboratorio chimico, fondamentalmente, per cui tutto il coro aveva questo camice bianco e avevano in mano delle provette, dei matracci, insomma, stavano facendo esperimenti di chimica. Di per sé la cosa potrebbe anche funzionare, se non fosse che quelli sconsiderati del librettista e del compositore hanno ben pensato di far aprire il coro di Elisir d'Amore con i contadini che cantano Bel Conforto al Mietitore. E canti Bel Conforto al Mietitore con un camice bianco e con delle provette in mano. Capite che quello che vedo fa clamorosamente appugni con quello che sento e con quello che c'è scritto? Non si tratta di l'esa maestà, non si tratta il fatto ah, Donizetti o Rossini o Puccini, Verdi, chi volete, ha scritto così e quindi diventa materia di fede, diventa un dogma intoccabile. Non è questa la questione. A me va benissimo che vengano attualizzate le regie, purché ci sia una corrispondenza con quello che i cantanti fanno e dicono. Tralascio gli atti avvestiti da nazisti, i nazisti negli ultimi anni insomma vanno molto di moda, quindi dopo c'è un cattivo immediatamente diventa un nazista. Quindi come dire, come spediente è anche un po' sfruttato. Poi ho visto regie in cui i cantanti cantano l'aria seduti sul water. Ma ribadisco, non è l'attualizzazione che mi crea problemi. In tempi relativamente recenti ho visto due spettacoli molto belli e sono stati il Don Giovanni in scala con la regia completamente diversa da quello che c'è scritto sul libretto. Ma a parte un paio di cose discutibili, una regia bella, una regia che anche se è stata modernizzata, molto bella, molto efficace e visivamente di enorme impatto. Poi ho visto un Barbieri di Siviglia al Teatro Coccia di Novara, anche lì in qualche maniera attualizzato, ma con una regia bellissima, delle scenografie stupende, dei costumi meravigliosi, non solo non mi crea problemi il vedere una cosa leggermente diversa da quello che c'è scritto sulla partitura, ma che mai tradisce quello che c'è scritto sulla partitura. Al contrario, mi fa piacere, dico, oh, un'idea, caspita, un'idea, un'idea nuova, un'idea bella, un'idea fresca, un'idea gradevole, e non me ne frega niente se Rossini o chi per lui magari non avrebbe gradito. A me, spettatore, il 2023 questo spettacolo piace. Allora, mettiamolo. Spesso e volentieri i registi si approcciano all'opera in maniera del tutto dilettantesca, anche se sono dei professionisti. Non tutti, però per fortuna, eh. Ci sono quelli bravi, ci sono, sia chiaro. Cosa vuol dire dilettantesca? Completamente ignari di quali sono le esigenze di un'opera, completamente inconsapevoli di quali sono le esigenze dei cantanti, e spesso e volentieri completamente all'oscuro di che cosa succede nell'opera. Sembra che veramente, o quantomeno non lo sanno nel dettaglio, sembra veramente che si siano letti la trama su Wikipedia dieci minuti prima di cominciare la prova. Al netto di questo, a volte c'è un altro problema che sopraggiunge, cioè il problema linguistico. Ovvero sia, molti registi stranieri fanno le regie di queste opere senza averla più palida idea di che cosa questi cantanti stiano cantando. Vi faccio un esempio che è successo a me. Bohème, con un regista straniero, che fa una regia tradizionale di Bohème. Quindi, come dire, in questa cosa che vi racconto non c'era sicuramente la volontà di fare una bestialità. Ma cosa fa? Nel finale dell'opera, Mimì canta Sono andati, fingevo di dormire. Peccato che il regista faccia cantare a Mimì questa frase completamente in piedi. Per cui lei in piedi dice a Rodolfo Sono andati, fingevo di dormire. Che è una di quelle cose che quando ti succedono altro che metterti la benda. Per cui, anche in teatro è stato fatto tutto quello che si poteva fare. E forse questa cosa porta certi registi a fare delle regie estreme. In più considerate un altro aspetto che non è da sottovalutare. Paradossalmente, soprattutto nelle grandi produzioni, nelle piccole o comunque nelle produzioni di cui il mondo non parla alla fin fine la questione è meno rilevante. Ma nelle grandi produzioni quanto più è brutta e criticata e contestata la regia tanto più se ne parla. E quindi molti registi che non hanno al proprio arco la capacità tecnica di essere di bravi registi come fanno notizia? Facendo le cose palesemente brutte palesemente contestate e contestabili ed è previsto che vengano contestate in modo che se ne parli per la famosa regola parlatene male basta che ne parliate. Fedeli quindi alla famosa frase di Oscar Wilde There's only one thing in a world worse that has been talked about that is not been talked about. Ovvero sì, c'è solo una cosa peggiore al mondo che fa parlare di sé ed è non far parlare di sé. Concludendo, bravi registi ci sono e ce ne sono tanti ma vi assicuro che oggi come oggi avrete più possibilità di trovare un bravo regista in un teatro medio che in un teatro grosso perché una buona parte di questi registi ha perso completamente il senso della misura il senso del gusto ma soprattutto il senso del bello. Mi sembra che a volte faccia una gara fra di loro per chi riesce a fare la cosa più brutta ma la cosa di cui si è parlato di più. Io però sono convinto che se il maestro Verdi o il maestro Puccini dovessero risuscitare andrebbero da questi signori e li prendrebbero a schiaffi due a due finché non diventano dispari. Alla prossima!